Mercoledì 14 febbraio, nella Chiesa Cattolica inizia la Quaresima, tempo durante il quale il Santo Padre Francesco ci chiede di guardare se il nostro cuore è minacciato dalle menzogne che ci rendono schiavi del piacere, del denaro, della droga, delle relazioni usa e getta e della realtà virtuale dei social. Per guarire dal gelo dell'amore soffocato, i rimedi della Chiesa sono preghiera, elemosina e digiuno. E' questo il fulcro del messaggio del Papa per la Quaresima 2018, ispiratosi proprio alle parole di Gesù nel Vangelo di Matteo. Per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. A livello diocesano, in apertura della Quaresima, il 14 febbraio appunto, il Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano presiede la Santa Messa con rito di imposizione delle ceneri alle ore 9 nella Basilica Cattedrale di Lucera e nel pomeriggio alle ore 18 nella Basilica Concattedrale di Troia. Per tutto il tempo forte, come già avvenuto lo scorso anno, saranno vissute le stazioni squaresimali ed in particolare ogni lunedì delle prossime settimane e rispettivamente a Troia il 19 febbraio, a Lucera il 26 febbraio, per la zona di Castelnuovo il 5 marzo, per quella di San Marco la Catola il 12 marzo, per la zona pastorale di Biccari, martedì 20 marzo prossimo.